Si rinnova anche per il 2020 l'appuntamento con il Carnevale di Agropoli. Giunto alla 49esima edizione, l'evento quest'anno avrà quali momenti clou le spilate dei carri allegorici in programma domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio. Appuntamento fisso invece per sabato 22 febbraio al Pala di Concilio con i dilettanti allo sbaraglio che si cimenteranno nella corrida alla sua settima edizione. Tanti sono poi eventi collaterali in programma per la gioia specie dei più piccoli. Saranno cinque i carri allegorici che sfileranno, ognuno legato ad un tema di attualità compreso il carro di apertura simbolo della città di Agropoli, il Cajardin. Domenica il percorso come di consueto comprenderà la partenza da via salvo d'acquisto con prosecuzione in via Pio Decimo e arrivo in piazza Vittorio Veneto. Martedì 25 febbraio si seguirà invece il percorso canonico del giorno del martedì grasso con partenza da lungomare San Marco, transito su via De Gasperi, via Piave, via l'Europa e arrivo in piazza Vittorio Veneto. Il carnevale, afferma il sindaco Adamo Coppola, è uno degli eventi tradizionali della nostra città e sebbene quest'anno non potremo annoverare tanti carri allegorici, abbiamo messo in campo in collaborazione con associazioni del territorio una serie di attrazioni che sapranno arricchire il cartellone e divertire le tante persone che verranno a trovarci. Non posso che ringraziare chi si impegna affinché questa tradizione possa continuare, in primi sicarristi che sono la vera anima del carnevale. La passione che ci mettono nel loro lavoro è davvero contagiosa.